La posizione geografica ha consentito ha consentito a questo paese di svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione del caffè verso i mercati medio orientali di Damasco, Aleppo e della Turchia. Qui giungevano i mercantili carichi della miscela yemenita per poi dirigersi attraverso il deserto in Iran e Iraq. Oggi i tir carichi di caffè brasiliano hanno preso il posto delle carovane e risalgono lentamente la Desert Highway fino ad Amman. Lungo la strada i camionisti si concedono una sosta aprendo i vani laterali dei loro automezzi e mettendo in mostra piccoli bar ambulanti con tanto di caffettiere e fornelli a gas.